Ciao Don Marco, benvenuto, è bello averti qua con noi quest'oggi per approfondire un tema un po' spinoso che riguarda qualcosa che ha a che fare con le nostre tasche, con i nostri portafogli, con qualcosa che tocca la ricchezza a volte anche della Chiesa e ciò che ha a che fare con i preti e questa cosa ci interroga. Ci puoi dire chi sei e che servizio svolgi in diocesi a questo riguardo? Innanzitutto grazie per questo invito a te Don Matti e ai collaboratori. Sono molto contento ma perché ritengo che sia un servizio per la Chiesa e un servizio anche per tanti che sono attenti alla Chiesa oppure che guardano volentieri certi movimenti della Chiesa o magari per certi aspetti sono critici. Io che cosa faccio in diocesi in questo settore? Mi occupo del cosiddetto sovvenire che è poi l'attenzione alla presenza che la Chiesa ha dentro il mondo, dentro le situazioni di vita ordinaria per quello che riguarda la raccolta e il sostegno per le offerte, per i sacerdoti, la raccolta e il sostegno della Chiesa stessa. È come se noi dicessimo un buon padre di famiglia ha a che fare con ciò che deve amministrare. Ecco la sintesi del sovvenire è un po' questo, è a che fare anche con i soldi ma i soldi hanno a che fare con le persone e non da ultimo ma soprattutto con un'infinità di progetti, un'infinità di possibilità che dalle tasche anche dei nostri fedeli, dei nostri sacerdoti arrivano a costruire poi opere che restano e che restano nella Chiesa per il bene di tutti però anche della società civile. Bella questa cosa che ci dici che i soldi non sono soltanto la materia ma dietro i soldi ci sta un mondo di relazioni su cui sono depositati i desideri, le attenzioni di un popolo, del popolo di Dio e hai usato delle parole che perlomeno a me non sempre sono così familiari e chiare. Hai parlato di sovvenire e nella mia testa si accendono i collegamenti con una galassia di riferimenti, l'otto per mille, le offerte che diamo in Chiesa. Ci puoi spiegare un po' meglio come funziona questo mondo? È un mondo delicato, è un mondo delicato perché come tutte le questioni attuali chiede di essere meglio conosciuto, chiede di essere meglio gestito sempre ma soprattutto chiede anche di essere riconosciuto. Ecco perché dico meglio conosciuto. Se noi dovessimo fare una disquisizione dal sovvenire che con semplicità dico è il contenitore che dentro di sé tiene una serie di soggetti arriviamo subito all'otto per mille. Uno dice che cos'è l'otto per mille? Sì è quell'otto per mille dell'IRPEF dello Stato e che lo Stato può devolvere o alla Chiesa Cattolica in questo caso previa una firma o ad altre religioni allo Stato stesso ad enti che sono preposti e che sono entrati nella dichiarazione dei redditi per questa possibilità. Ma prima di arrivare lì noi dovremmo dire perché è nato l'otto per mille per la Chiesa Cattolica e quando è nato. C'è una data, è il 1984. Nel 1984 la Chiesa italiana, sottolineo la Chiesa italiana, noi parliamo di Chiesa italiana, fa una svolta. Rinuncia alla congrua, cioè quella parte che lo Stato dava ai parroci in particolare e i parroci rinunciano al beneficio parrocchiale. È una storia antichissima, quando si parla di benefici si torna inevitabilmente indietro di secoli. Le parrocchie di tempo in tempo avevano raccolto per il bene del sostegno della parrocchia stessa, della Chiesa, delle opere, strutture che davano denaro. Affitti, un campo può essere affittato e da qualcosa, una casa può essere affittata e da qualcosa. Il tot di quella remunerazione passava in parte al mantenimento del parroco e se andava bene degli altri preti in parrocchia. In parte era a sostegno delle opere parrocchiali. Capite bene però che c'era una spaccatura molto forte. Perché? Perché c'erano benefici pingui e benefici invece molto piccoli, al punto tale che una diocesi diceva una parrocchia per esistere deve avere un beneficio sufficiente per il parroco e per la parrocchia stessa. 1984, è chiaro, a fronte anche di un lunghissimo e moderno, perché dobbiamo dire moderno, cammino che nasce un po' col Vaticano II e nel Vaticano II si dice sarebbe bene che i pastori venissero nuovamente, nuovamente in memoria di quella che era la chiesa apostolica, sostenuti dalla loro comunità, si decide di raccogliere tutti i benefici. Non fu indolore perché le parrocchie persero anche un certo numero di possibilità che non hanno mai più riavuto. Han tenuto le opere che in sé non davano una remunerazione, non davano risposte economiche e tutte queste opere sono finite invece in quello che andava a nascere allora, istituto centrale, sostentamento clero. La parola la dice Chiara. A sostegno del clero, ma non solo, un unico istituto presente poi sulle singole diocesi, istituto diocesano, sostentamento clero. Qualcuno nel bene e nel male ci dirà ah sì io vivo in una casa dell'istituto, non è della curia, non è dei preti, è l'istituto, cioè quel luogo che ha raccolto tutti quei benefici che davano alle parrocchie la possibilità di pagare il parroco, dico pagare, e di sostenere anche le opere parrocchiali. Dicevo 1984 la chiesa italiana, il nome di Monsignor Nicora va fatto, Cardinal Nicora poi perché fu l'ideatore, l'inventore, dice dentro tutto questo noi riusciamo a dare un degno sostentamento a tutti i preti. Alla stessa maniera un sistema che mette in equipollenza, mette tutti allo stesso modo, con dei piccoli punti di anzianità o per incarico, soprattutto laddove le parrocchie fossero state più estese. E poi chiediamo allo Stato di non pagare più la congrua, non vogliamo che lo Stato abbia più, non a che fare con la Chiesa, ma abbia più dei doveri nei confronti della Chiesa e la Chiesa chieda dei diritti quasi. Con grande libertà, grande autonomia, grande dialogo, chiediamo che ciò che è possibile, cioè che una percentuale delle quote che riguardano il totale IRPEF dello Stato, possa essere devoluto alla Chiesa Cattolica. Firmando un contribuente dice ma io che cosa ci perdo? Magari come in Germania pago una tassa. Niente, tu metti una firma libera che non ti toglie nulla ma che dice allo Stato io voglio che si possa sostenere la Chiesa Cattolica, l'otto per mille della Chiesa Cattolica che fa molto bene e lo fa anche in una maniera molto specifica sostiene opere caritative che devono essere il cuore dell'opera della Chiesa, opere culturali che è più che giusto che siano altrettanto valide dentro la Chiesa, una parte dei sacerdoti. Ecco in questi ultimi tempi stiamo vedendo che l'otto per mille va sempre di più a sostenere i sacerdoti perché qualche fatica comincia ad esserci. Non so se ho dato un'idea di questo primo passaggio ce ne possono essere altri. Sei stato molto ordinato e già per questo ti ti ringrazio ma aiutami a capire quindi bene come funziona il sovvenire nello specifico? È un'offerta che io posso fare? Quando posso farla? È uguale all'otto per mille? Le cose sono da distinguere perché ci sono le cosiddette campagne, se si può usare questo termine, per la dichiarazione dei redditi, la firma che noi possiamo mettere per la dichiarazione dei redditi, moltissimi nostri contribuenti, diciamo pure parrocchiani, diciamo persone che magari c'è anche chi non frequenta ma è attento, c'è anche chi magari è un pochino più critico e quindi vuole essere capace di vedere meglio e questo è giusto. Che cosa fa? Laddove si chiede nel momento della dichiarazione dei redditi la possibilità di una firma, quella firma alla Chiesa Cattolica va per le opere della Chiesa Cattolica, Carità, Cultura e Sacerdoti e in quel momento uno dice senza nulla togliere a se stesso ho firmato per la Chiesa Cattolica. Ci sono momenti dell'anno, in altri istanti, non quelli magari della dichiarazione dei redditi, dove uno può procedere con delle offerte deducibili. Mi spiego. In alcune nostre parrocchie abbiamo visto in certi periodi una sorta di campagna, parlo in questo modo per essere un pochettino più immediato, però i termini dovrebbero essere più specifici, dove è possibile fare un'offerta che a sua volta, ricevendo anche una ricevuta, è deducibile. È chiaro che questa offerta, se vuole essere deducibile, è per i sacerdoti, per il mantenimento del proprio parroco, no, per il mantenimento del clero e io dico ho offerto con la mia comunità un piccolo dono che messo insieme è diventata la remunerazione mensile di un prete, fosse anche il mio parroco. Questo torna all'idea originaria del concilio. Se io lascio i miei dati, posso chiedere al parroco, posso chiedere al parroco di farmi mettere in contatto con l'incaricato o con l'istituto di Ocesano, io posso ricevere appunto una ricevuta che dice che ho donato. Posso farlo anche anonimamente, non chiederò che sia un'offerta deducibile, ma in un bussolotto come quelli abbiamo sostenuto i progetti del sovvenire e ce ne sono e invito ad andare anche sul sito di Ocesano del sovvenire per vedere questi progetti, sentire i parroci, essere un po' più curiosi di queste cose, magari un po' meno critici o critici, dopo aver sentito però che cosa succede, e lì posso fare un'offerta deducibile oppure posso fare un'offerta, perché l'idea del sostegno dei sacerdoti al di là dell'otto per mille è una possibilità lungo tutto l'anno. È chiaro Don Mattia, qualcuno potrebbe dirci, ma ci sono certi scandali, come faccio a mantenirli? Nelle nostre famiglie c'è sempre qualcosa che non funziona, ma quando io ragiono dal punto di vista familiare dico nella mia famiglia c'è anche tanto bene e allora sostengo il bene accettando evidentemente di non essere così idealista che non ci siano delle fatiche, ma il sostegno di tantissimi sacerdoti nelle diocesi italiane, penso anche a zone un pochettino più disagiate o sacerdoti più distanti da certi centri, è bellissimo che tutti vengano sostenuti allo stesso modo e un prete senta di dire è la mia gente, non che mi mantiene, che mi sostiene. I termini in questo caso sono molto belli. Ma se venisse a mancare l'otto per mille, che cos'è che verrebbe a mancare nella nostra diocesi? Prima che dire nella nostra diocesi direi nella chiesa italiana, sicuramente, e poi nelle singole diocesi le grandi opere non solo strutturali ma di carità che sostengono una diocesi vengono per buona parte dall'otto per mille. Con questo non sto dicendo tutto, ma per buona parte. La nostra diocesi ha avuto, magari se ne potrà parlare in seguito, grandi interventi a partire dall'otto per mille. da interventi di carità, abbiamo dalle mense ai dormitori, a quello che riguarda un'attenzione specifica alla persona e poi un'attenzione specifica alla persona nelle comunità per la costruzione o il sostegno di costruzione di una chiesa. È avvenuto moltissime volte nella nostra diocesi. Partecipano le comunità ma a partire da una base che viene dall'otto per mille nazionale. Anche questo è interessante, non il nostro otto per mille, l'otto per mille della chiesa italiana e poi il sostegno ai sacerdoti. Oggi è una difficoltà questa, cioè l'otto per mille viene sempre di più utilizzato per il sostegno ai 35.000 sacerdoti diocesani, quindi anche i nostri sacerdoti diocesani, sicuramente. Grazie Don Marco per questo respiro cattolico ampio, legato a un qualcosa di così delicato come i soldi che riguardano non le nostre tasche ma riguardano la vita della nostra chiesa di cui siamo parte. Ti aspettiamo presto per approfondire magari la questione che riguarda il sostentamento del clero e le offerte della vita della parrocchia. Intanto grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a voi.